Non sono particolarmente scaramatico, però giro sempre con il trolley, con un panda, un ciondolino a forma di panda e in pista quando vedo che qualcosa vanno abbastanza bene non cambio la posizione all'interno del box, sono al centro, a destra, a sinistra a seconda di come stanno andando i turni. Sì, ho un oggetto che porto sempre con me, ormai da 25-26 anni, che è l'orologio di mio nonno e ce l'ho sempre con me, non al polso ma in un posto specifico, quindi lo uso, lo ho sempre avuto quando andavo a scuola, quando andavo all'università e lo porto sempre con me, anche nei viaggi.